buongiorno amici in questo breve video un piccolo tips su come correggere quella leggera distorsione lente che si viene a verificare quando facciamo delle riprese con il nostro drone con il nostro mavic 2 pro nella modalità full fove dove fove sta per field of view allora nella modalità full fove il campo visivo diciamo ciò che il nostro drone riprende è di 75 gradi mentre nella modalità hq è di 55 gradi la modalità hq forse ci ridà una un'immagine leggermente di una qualità leggermente migliore ma non sono qui io a dirvi adesso o a farvi vedere perché ci sono molti video su youtube mentre nella modalità full fove abbiamo un'immagine che ci restituisce diciamo più paesaggio quindi nella modalità full fove noi saremo in grado di riprendere una parte di ciò che il mavic inquadra più grande mentre nella modalità hq sarà più croppata l'immagine però nella modalità full fove c'è questa leggera distorsione della lente che in questa immagine purtroppo non si vede molto perché purtroppo dove abito io nelle mie zone anzi per fortuna forse ci sono montagne mentre magari da questa immagine potete capire di cosa sto parlando come vedete qui l'orizzonte leggermente curvato come fare a risolvere questo piccolo problema ci sono anche dei piccoli plugin da scaricare da installare allora se volete risolverlo in tre clic potete farlo benissimo da soli allora andiamo sulla nostra immagine che vogliamo correggere poi andiamo a creare da qui un nuovo livello di regolazione l'ho già creato lo prendo lo trasporto qui ok creiamo un nuovo livello di regolazione ok lo selezioniamo a questo punto andiamo su effetti e andiamo qui sotto effetti video come vedete qui effetti video e andiamo su distorsione lente distorsione distorsione lente trasciniamo qui sul nostro livello di regolazione a questo punto qui in questo pannello nel controllo degli effetti come vedete si è creato l'effetto distorsione lente ancora noi non abbiamo modificato nulla dobbiamo solo andare a modificare leggermente la curvatura quindi andando a selezionare la curvatura ci possiamo spostare leggermente in negativo poi decidete voi di quanto potete fare 9 10 8 11 chiaramente poi dovrete vedere voi la quantità di distorsione se avete un orizzonte curvato piano piano andrete a raddrizzarlo quando sarete soddisfatti possiamo vedere che senza la distorsione con la distorsione sarà così e con la correzione sarà così ora in questo caso la differenza si vede ma è chiaramente si vedrà bene se voi avete un orizzonte dritto comunque diciamo che abbiamo corretto la nostra distorsione come vedete l'immagine è leggermente croppata come vedete perdiamo qualcosina soprattutto se non notate qui vedete i lati quando aggiungiamo questo effetto ok però raddrizziamo il nostro orizzonte a questo punto per non doverlo fare tutte le volte salveremo un predefinito quindi andiamo sulla distorsione lente selezioniamo col tasto destro andiamo su salva predefinito qui scriveremo ovviamente facciamo ok ora sotto i predefiniti come vedete si è creato il predefinito che abbiamo salvato noi mavic 2 correzione lente tutte le volte che noi andremo a registrare un video utilizzando la modalità full fove e avremo bisogno di correggere la lente quindi in questo caso si poteva anche non notare nessuno se ne sarebbe accorto però se abbiamo ad esempio delle immagini in cui ci sono degli orizzonti dritti che sono curvati se lo vogliamo correggere andremo non faremo altro che prendere il nostro plugin e trascinarlo qui come vedete adesso l'ha fatto due volte perché chiaramente ha corretto due volte e correggeremo questo piccolo problema niente un piccolo tips che può essere utile per non dover tutte le volte andare a ripetere questa operazione se questo video vi è stato utile vi invito a mettere un mi piace potete anche lasciare un commento se volete vi invito anche a scrivere il mio canale tanto non costa nulla e ad attivare la campanella sotto il video se volete essere notificati quando posterò dei nuovi video per intanto vi ringrazio come sempre vi aspetto al prossimo video ciao a tutti amici